Ciao ragazzi e ben ritrovati su Casco Rosso. Oggi video con le mie opinioni a caldo subito dopo la sprint race del Gran Premio di Silverstone. Oggi abbiamo visto la gara del sabato con un grandissimo Enea Bastianini che torna a vincere ma soprattutto lo fa in modo netto dando veramente l'impressione di aver avuto tutto sotto controllo dalla partenza fino all'arrivo. Dico così perché Jorge Martin era partito alla grande dando l'impressione di voler fare il solito Jorge Martin della sprint race quindi partenza a razzo si mette davanti e tanti saluti alla compagnia. In realtà poi la gara non è andata così. Due grandi protagonisti che hanno abbandonato la corsa prima della fine Bagnaia e Mark Marquez. Bagnaia forse commette uno dei suoi famosi errori ovvero non era partito in realtà non era neanche partito male poi aveva perso dei metri ad inizio gara e poi si era come dire rimesso in pista per provare a recuperare ma secondo me ha esagerato un po' troppo e infatti è scivolato con una classica chiusura da anteriore arrivato veramente a razzo in curva si era ripreso stava recuperando secondo me ha sicuramente il potenziale per giocarsi il podio però purtroppo finisce in anticipo la sua corsa con la vittoria del suo compagno Bastianini però non perde la leadership del mondiale anche se la conserva veramente per pochissimo. Altro protagonista Mark Marquez che dopo la scivolata di Bagnaia però resisteva in quarta posizione staccato di parecchi secondi dal terzetto di testa quindi per lui sarebbe stata una gara probabilmente da quarto posto anche nel suo caso comunque una scivolata classica bisognerà capire se magari stava esagerando oppure no perché le sue immagini non le ho riviste ancora. Tornando però al podio abbiamo Jorge Martin che quindi chiude secondo e non riesce a tornare in testa al mondiale e poi abbiamo una l'esce Spargaro che dopo la pole record di stamattina conquista comunque un ottimo terzo posto. Allora per quanto riguarda i giochi del mondiale in realtà alla fine Martin qualcosina ci guadagna perché non torna in testa ma accorcia veramente tantissimo il gap per la gara di domani in realtà credo che i quattro protagonisti di oggi quindi i tre del podio più Bagnaia saranno anche protagonisti per domani delusione secondo me per l'altra apriglia di Vignales vedendo un Spargaro così pimpante ci si aspetterebbe Maverick sicuramente davanti c'è anche un episodio che adesso dopo la corsa verrà rivisto quindi poi insomma ne parleremo in live ne parleremo sul nostro gruppo telegram quello che ha coinvolto morbidelli e bezzecchi ad inizio gara una caduta direi veramente importante perché comunque ho visto che hanno fatto un attimo fatica a rialzarsi sembra non sia successo nulla di grave però la morbidelli ha perso il controllo probabilmente è arrivato veramente troppo forte in staccata e ha centrato in pieno bezzecchi quindi sfortuna anche per per il bezzecchi quindi chiude in anticipo la sua gara subito dietro il podio arrivano le ktm con bindere a costa che si sono anche dati una carenata con pezzi di moto che sono volati via quindi un po di lotta interna per le ktm che comunque agguantano dei buoni punti in ottica mondiale subito dietro poi troviamo alex markets jack miller e Vignales con fabio di gianantonio che invece chiude al nono posto bene ragazzi per chiudere oggi abbiamo visto una bella sprint che ci dà anche a noi uno sprint per la gara di domani perché davvero ci sarà di che divertirsi abbiamo un pacchetto di quattro piloti molto competitivi davanti e soprattutto con tantissime motivazioni perché bagnaia vorrà riscattarsi martin vorrà provare a rubargli la leadership mondiale e nea bastianini secondo me cercherà in tutti i modi di tornare a vincere anche un gran premio e alesce spargarò ovviamente vorrà vincere il gp per riconfermarsi re di silverson dopo l'anno scorso ci sarà ci sarà ovviamente voglia di riscatto anche per mark markets che domani penso in assoluto cercherà di agguantare in ogni modo il podio quindi abbiamo tantissimi argomenti tantissimi temi per la gara di domani noi come sempre ci vedremo in live dopo il gran premio ciao ragazzi ciao 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 ciao